10 contro 10 no stai 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 ma sono un fortissimo io sono una bestia sono bravo sono un artista di ocare bravo 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 bro mi hai scammato era nel momento del tristi perdono minchia vero scusami Seba cazzo t'ho scammato bro ma cosa vuoi fare bro vuoi giocare Seba fammi capire perché allora io adesso mi rita sto giocando ad un altro sito bro perché quello in cui stavo caricato prima 500 è in manutenzione quindi sto giocando ad un altro vuoi la panna cioè vuoi quella crema no no vuoi prenderla prendila che schifo eh 12 di merda 12 di merda o mi dai un 8 e un 9 e sorrido o anche un 7 un 9 un 9 un 9 un 9 un 9 un 9 amorino un altro 9 vaffanculo hai fallato porco di amore vaffanculo si è il seba il veneto seba quello che è Tyler comunque col 12 il 10 è proprio infame piuttosto era il 5 o il 6 o il 4 pure anche un 3 di merda mi vabbava bene dove sono le mie ciabatte a me amore me lo attacchi la per favore dove stanno le mie ciabatte ah stanno sopra ma è un po' cazzo c'è i gas di me cir100 100 e 100 alla gigantons senza discord da ludo silenzioso no bro ma no 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 con discord dobbiamo farlo seba se non siamo su discord non ci possiamo collegare br capisci se vuoi organizziamo bro organizziamo per domani seba dimmelo organizziamo e facciamo session domani seria bro magari facciamo 200 e 200 a testa facciamo 400 li giochiamo tutti alla gigantons o alla reactons visto che ti piace tanto ma no non potevi darmi una scalettina stiamo niente da fare 14 stand 16 azi Gab è chi è che ti pulisce casa è la mia signora delle polizie sì sì ho in non sono io che è me la dina volevo capire chi era il pollo perché non c'è nessun nick con scritto Gab è l'orlando furioso bre non rinaggono non mettermi no tu devi venire con me a bigere non palle no no hello ah ok Orlando perfetto almeno so chi è hello 7 fratto carta 16 quando ho giocato io ce n'avevo uno di Salerno il dealer era di Salerno cazzo se chiamavo facevo 19 dai sballa 4 bravo cucciolo se giochi bene è vero che al bj si sale solo si sale solo ragazzi giocate al black check sempre non dire cazzate Dalila quando volete moltiplicare i vostri non è vero non dite cazzate sta scherzando Dalila no un 3 contro colore ma neanche bella pie grazie ai tre mesi cucciolo bella pie dai un 2 o un 3 o un 10 o un asso un 10 insomma dai un po' di mattini grazie purtroppo 20 stand 14 14 20 20 stand fratto 9 19 dai fai 17 sto incontento dai io non ci sono 7 al banco raga il 7 ce l'ha lui coperto dai che ce l'ha lui coperto il 7 non sono usciti i 7 ok non fare cazzate bravo cucciolo let's go let's go let's go alziamola rischiamocela grazie costatumo tomu per l'abbonamento benvenuto cucciolo e grazie notorious big per i 100 il 100 grande game 6 il numero 1 cuore rosso cuore rosso il numero 1 nel perdere soldi il numero 1 a finire nel pozzo dai tris di 9 adesso per ride 19 circento domani sera facciamo se riesci solo gigantons ti lascio continuare la sessione in pace good luck bella se va perfetto bro se domani sera vogliamo organizzarci volentieri volentieri facciamo una bella session insieme alla gigantons tris di 3 non giocato minchia davvero guardalo guardalo amore tris di 3 non giocato non far cazzate bravo ma il tris di 6 vale di più del tris di 3 no il tris vale uguale a qualsiasi cosa poi io giocavo siamo in streak da 3 non male sto tavolo sta facendo sorridere vediamo se continua a pagare sai che c'è un po' di una osetta si puoi mai la patina lì magari un team va bene mi fa piacere bj 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 bello però bello solido bellissimo cazzo soliderrimo soliderrimo con un capo maranzo alla nausea perché non ti lavi gab non è vero ragazzi mi sono lavato prima no adesso si è lavato tutto profumato vero mo super mega profumato dai fai 19 mad max scusami avevo visto il messaggio solo che non ci credo ma che cazzo ha fatto vabbè amore ci sta un push dopo tutta estrascia anzi abbassala perché questa è una B alziamola vabbè si sceme mad max dopo ti rispondo scusami mi avrò dimenticato di scriverti brif mi ero dimenticato di risponderti ho visto il messaggio è un momento un po' dedicato va bene Enrico Papi basta facciamo che cosa che funziona scala ma no cazzo ma tarda c'era il k dopo c'era c'era il k dopo era buonissimo sono 204 giocatori che hanno giocato dietro di me ma che cazzo dici brif grazie per la pre-decision amore io vado vado un saluto a Morgan che sta vedendo la stream dai puoi salutare il capo Maranza di Segrate di Segrate come fai a conoscere Segrate salvo perché prima mi sa che io ma che in che parte di Salerno dai non vedi basta spendere i soldi in questa merda dali ma che cazzo fai ma me la puscia di nuovo ma che ridere grazie Simo e io sono di Battisiti ma ti fa abito vicino alla grande Milano io conosco Segrate salvo ma ci andavo spesso no sono i soldi giocati dietro di te ah ok pensavo fossero le persone no giocatori che hanno piazzato 19 non dovrebbero essere qua questi no 4 giocatori 9-19 euro penso penso si dica così ciao ragazzi ciao gucciolo Orlando furia Chris di 5 per ride ma non voglio ridere ma che schifo vabbè a mo la chiamo per fuerza ma che cazzo fai dai un 5 un 6 cucciolo so che ce l'hai yes yes or cucciolo yes or cucciolo grazie Baba Yaga è il prime è bravo il cuccio mi dà un bel 5 è caloroso è bravo il mio Gabri Gabri Gabro sei un coglione non ci sono dubbi però su questo guarda quello scala colore no che cazzo fai è il 18 bravo dove va Emma lo so ho visto scala colore raga un 3 dai dammi un 3 sperrite che schifo oh 7 e 3 7 e 3 non si dovrebbe raddoppiare raga lo so lo so che non si raddoppia col 10 raga lo so che non si raddoppia col 10 ma il 7 e 3 lo si trasta 19 oddio oddio mi è andata pure bene cazzo aiuto 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 no cazzo grazie ma amore fai 100 euro di puntata così vi recuperi tutti 100 euro no no lo sto scherzando amore proviamo 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 facciamo la cazzata facciamo la cazzata grazie 2 per il prime ma no amore come sei di pagani jerry io ci sono stato a pagani io ci sono stato a pagani jerry sono stato a pagani non c'era oh scala no minchia se mi davo una scala un bel 6 godevo un sacco sono stato a san marzano sul sarmo dai che sballa amore sballa grazie ciccio a yello per i tre mesi mi è tornato cucciolo dai che sballa dai che sballa ma quel ciao gab che ha fatto quel ciao gab sta vincendo un botto corco dio con 400 bj fortissimo dio cane dai 15 ok un 10 un 10 spalla cazzo cazzo ti ridi dai perché ridi no è il tuo cazzo scusa mio amore ansia da ludo dai ma che merda raga allora guarda adesso recuperi dai ma guardalo bro bro 450 e 50 bro colore almeno minchia da raddoppierei io da raddoppierei a cazzo duro vaffanculo c'ha il 6 deve sballare c'ha il 6 e deve sballare fanculo dai 16 ok yes sir cucciolo yes sir 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 un bel tris perfetto per ridere un bel tris delle belle side guarda quanti 5 di picche un 6 bello però bello esagerato potrei fare la cazzata e raddoppiare eh la faccio la faccio voglio salire voglio salire un 10 no ma cazzo ma cazzo ma porco dio ma dammelo quel 10 che mi serve porco dio porco porco dio eh ha perso tutto c'ha perso tutto ma sei zitta potevamo salire invece ce l'ha messa in culo palese c'ha il 17 palese sto figlio di puttana c'ha il 17 palese sto figlio di puttana no ma vai affanculo vai pezzo di merda vai affanculo ma non tu cucciolo hai il gioco intendo il gioco non tu cucciolo e insomma siamo un po' in un pozzo io provo a fare le belle grosse le puntate 55-5 provo a puntare esagerato vediamo se me la se me la canta bene oppure me la canta male solo le carte decideranno le nostre sorte solo le carte decideranno la nostra sorte un 5 di nuovo ma dammi sto 3 di 5 che schifo che schifo eh nice potevo fare un piccolo raddoppino ma chi cazzo lo faceva il raddoppino con l'8 contro il 2 dai 17 no non voglio più va bene un 3 oh nice 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 carta dammi un 4 un 5 e poi un 10 un 3 un 4 un 5 un 9 che merda che merda cazzo bisogna sperare sballi ma la vedo dura se il cucciolo sballa sarebbe molto amichevole ma molto 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 amichevole ma no ma ciao gab che non mi raddoppia col 7 3 con 10 contro il 7 mi scende ma quanto sei giocato mille mille dai sballa e si gode e si gode ma chi è ciao gab qualcuno ciao cab ti puoi rivelare in chat magari giftando tipo 200 sub un messaggio da 50.000 bit e ci dici che sei tu bro ti saluta il deluxe ciao leo ma non è il deluxe ragazzi non è il deluxe deluxe se lo hai tirato oh scala bello 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 bellissimo bellissimo carino molto carino molto carino molto carino un bel 20 solido più scala dai non fare 20 che sgodo minchia paura vabbè ciao gab vabbè sta vincendo troppo ho scritto leo sono io dai 17 13 come sta bruno boh raga minchia ciao gab sta continuando a vincere bro sta continuando a vincere però buono due mani sono servite per tornare belli a galla dai continuiamo voglio la streak bella pesante due mesetti con il mio ludo preferito 69 bella tortone grazie dei due mesi cuccio un 2 3 di 2 a caso minchia ciao gab mille oh scala scala buono cazzo ciao gab mille cento e cento fuori di testa il bruno bella sta scaletta minchia continuano a sganciarmi side grazie loco per i cento 12 contro il 4 che facciamo 16 21 vittoria grande baldoria esce 21 secondo me ha fatto il speriamo no guarda che lui sballava palese lui secondo me sballava palese stessa 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 sentire amore lo sai vi la nudo chiamata dello sbaglio oh scusami vabbè è gratis la puntata vediamo di cosa faceva 8 no poi pigliava un 8 comunque faceva una merda in verità ho fatto pushare ciao gab così dai quindi perdavano comunque sì ma qualcuno mi può sospendere a yaman boss continua a trastarmi cioè a trastarmi continua a spammare dio cane oh oddio oddio se lo faceva se lo faceva ma ora io vado sopra che dolce circento sono io non raddoppio per non è vero mai che non sei tu che non è vero mai che sei tu bro non è vero mai che sei tu non è vero mai che sei tu però non lo so non lo so bruno 16 ok sballa per favore cucciolo aiuto bravo cazzo bravo 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 è così che ci si comporta è così che ci si comporta è così che ci si comporta a casa mia cazzo ragazzi potrei risalire un po' potrei salire un po' in verità come potrei scendere in un pozzo istantaneo quindi bisogna stare attenti un 10 quando si parte col 10 sono contento sempre e quando mi dai il 20 sono ancora più contento va bene cucciolo chill 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 tranquilli dai che si arriva a 500 semplice grazie gigant gigant circento sono io guarda come ti metto ste puntate da 73 va bene mi fido ragazzi che siete voi grazie mattia per il prime non far cazzate ciao gab continuo a vincere ma è una cosa spaventosa porco dio una cosa spaventosa è strict da 5 ciao gab spaventoso zio porco vorrei raddoppiarla ma no ma no stiamo fermi stiamo fermi dai un 9 bello il 19 sono io guarda come ti metto ste puntate da 73 cazzo è lui davvero no raga non è vero e niente abbiamo sgamato minchia 0-3 6-2003 gigant ma che business fai bro cioè guardalo bro ma sta vincendo una cosa spaventosa sta vincendo gigant che business c'hai bruno io c'ho il business del raddoppio raddoppiamo 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 2 sono un coglione aiuto 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 scala scala oddio oddio che faccio oddio che faccio no è da fa è da fa è da fa un ten no oddio cane mo ce la mette in culo palese oddio porco ma non potevi dai ma guarda dove cazzo era il 10 yes 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 cazzo yes cucciolo yes e tra ripeto da 100 sono tutto pazzo sono tutto pazzo tra ripeto da 100 sono tutto pazzo tra ripeto da 100 sono tutto pazzo tra ripeto da 100 madonna santa madonna santa madonna santa è quel brividino Bruno è quel brividino Bruno c'è qualcosa che arde dentro di me c'è qualcosa che arde c'è qualcosa che arde un 6 aiuto oddio insomma dammi un 10 dammi un 10 eh no un asso e sono contento un 10 mamma mia cucciolo sei amichevole sei amichevole cazzo sei amichevole porca puttana sei amichevole cazzo bello porca puttana bello meno che non ci abbia un bj o un 20 durissimo con cui ci puscia sono si vola nooo ma che cazzo fai figlio di una puttana pozzanghera il gioco è una pozzanghera il gioco è una pozzanghera grandissima di delusioni il gioco è una pozzanghera grandissima di delusioni cazzo vabbè va bene dai si sale ma guarda qua ciao gab che cazzo sta facendo bro 7777 7773 che ridere cazzo che ridere 20 no perché 15 di merda se mi fa una scala colore no però colore porco dio sta sbancando di brutto comunque il cucciolo sta sbancando di brutto dai sballo sei un infame sei un infame sei un infame bru sei un infame bru 20 solido minchia sei il corag... giganta adesso sei il coraggio raddoppi bro eh per forza per forza per forza Bruno per forza Bruno grazie nere circento gab durante una litigata con la mia fidanzata ho detto che sei più importante di lei e che dovevo andare a vedere la tua live ti ho mandato screen su insta ma sei un coglione bro dai 19 circento guarda che moretta intrigante che mischia le carte minchia guarda quanto ha vinto ciao gab 3k così bro grazie argantonna madonna puttana madonna puttana ragazzi buonasera gambler malato ti amo oh oh si insomma grazie porcaccio il mio dio per i due mesi bentornato cucciolo e adesso mi devi dare il 10 fortissimo cucciolo sei troppo forte troppo forte a meno che tu non c'hai il bj e ti prenderei in giro ti prenderei unicamente in giro bro ti prenderei solo in giro bro ma la smetti di ruttare ma fatemi ruttare quanto cazzo io ho bisogno cazzo dai 20 va bene non fare 21 ma non ha senso dargli il vip solo perché punta tanto e chi ha detto che gli diamo il vip infatti davis va bene tutto ma esiste ancora un po' di meritocrazia su sto canale grazie frank per i quattro mesi bentornato cucciolo un 10 e quando si parte col 10 sono contento un 20 e quando abbiamo il 20 minchia potrei anche fare la porcata no ciao gab non ha spritta non ha messo le side io faccio la porcata raga faccio la porcata perché sono tutto pazzo faccio la porcata perché sono tutto scemo eh lo so che il dealer si incazza e dice eh non si spritta mai il 20 effettivamente fa schifo quello che mi hai dato effettivamente sono un coglionazzo non chiamate che ci sono i 10 con cui li sballa aiuto aiuto nooo sono un coglionazzo eh se non chiamavo 6 7 e lui pigliava il 10 comunque sono un coglione sono un coglionazzo dai cucciolo un 10 dai ma un tris per ride che schifo guardala che coppietta carina e sfiziosa di fianco ha dato guarda che coppietta carina e sfiziosa un 7 un 8 un 3 fanculo la chiamo ancora voglio un 4 e un 5 ne coglione io sono peccato quello spittagliassi che si piglia un 8 e un 3 che merda lui che faceva lui sballava lui sballava cazzo perché non sono rimasto fermo che lui sballava porca puttana hanno vinto tutti tranne me ma zio porco va bene va bene va bene posso accettarlo un 9 dai dammi un tris perfetto ma cos'è grazie seba grazie raff per i 6 mesi bentornato cucciolo bella raff bentornato grazie gigant per la sabbettina dai ma sei un figlio di puttana ma non è vero il gioco è un figlio di puttana boh dovrei scappare in verità però lo provo a trastare dai bella ciao piccolo che bella lucara sei bello sei stupendo grazie come stai bene volevo avvisarti che è uscito crazy time x 500 scherzo sono un burlone di merza come stai oh no potevi darmelo potevi darmelo 17 che schifo bella lucara grazie di 100 eh ragazzi mi sa che si schiappa mi sa che si schiappa o sballa se sballa raddoppio ma dubito fortemente che il cucciolo riesca a sballare in queste condizioni grazie angi per la sab 19 mastodontico di okane 19 fastidiosissimo cazzo andiamo al kratzi oh il kratzi non escono bonus da un po' eh la vedo spenta sta ruota grazie fabbiz per i due mesi bentornato cucciolo lo fatemi puntare prima fatemi puntare ah grazie alberto per il prime benvenuto cucciolo grazie fabbiz per i due mesi 5 su bonus arrogante fatemi vedere qua che cazzo ha combinato minchierato un 10 per 3 prima 20 per al coin 10 con 50 40 per al figa coin 140 per cosa coin per 7 140 per dio porco dio porco come no active session bruno no non mi ha puntato non mi ha puntato è andato sul crazy non ci credo non ci credo non mi ha puntato è andato sul crazy voglio piangere ma che cazzo dici bro ma che cazzo dici bro ma che cazzo dici bro ma avevo puntato porco dio ma che cazzo dici bro ma sempre così la figlia sempre così porco dio vabbè 20 per dai niente di esagerato erano 100 euro comunque non facevano schifo bruno non facevano schifo bruno vendiamo un po' in profit capisci vabbè io in verità rimango al rimango al rimango al crazy la zucara ma perché perché mi ha semplicemente detto questo porco dio canali appunta 10 caldi euro su un 23 bello freddo alla immersive roulette grazie e siamo a due mesi al bj mi fa giocare che ritengo in merda porco dio bella sta scala bellissimo bene rano si piglia si dieci minuti per la prima volta bella sta scaletta dai non fare 20 non fare 20 cuccio no 20 no 20 ma porco dio durissimo durissimo cazzo durissimo cazzo va bene dai grazie ti voglio tanto bene gab puoi salutare samuele piredda sei un grande bro ti auguro il meglio grazie pierce per i due mesi ben tornato cucciolo un saluto a pire a samuele piredda un saluto al cucciolo un ten un quattro paventoso aiuto parco dio parco dio oddio dai cucciolo non fai il serio porco dio ma sei un figlio di una puttana cioè se quel coglione li stava se quel coglione li raddoppiava come me vincevamo no il figlio di una puttana è il ovviamente ma che cazzo ha fatto dai ma che cazzo ha fatto alziamola alziamola e poi vediamo cosa fare raga ciao che come sta mi manda un bacino sulla cappella 100 alla prossima lo prendi grazie latte condensato per i tre mesi ben tornato cucciolo figlio porco bella tutor cazzo ti guardi fra ti muovi a distribuire ste carte madonna sto camista su caspita ma va non ero mica io faust era uno in chat a quanto pare mi ho risultato per giocare ecco la cifra un nove ma perché mi devi far soffrire perché mi devi far soffrire come un cane perché mi devi far soffrire come un cane ma no no eh non ci credo non ci credo fra ma come cazzo fai pozzo più grande di questo ma che cazzo fa perché si alza ma sei scemo fra ma che cazzo fai ma che cazzo c'ha che schifo ti prego ti muovi madonna santa oh gesù oh gesù bambino ma è fattissimo sto qua ma che cazzo c'ha ma bro ma un po' di professionalità sul lavoro cucciolo un po' di professionalità almeno sul lavoro matto badì problema faccio bravo aiuto danno un tris perfetto tutto assonnato bro dammi un tris perfetto tutto assonnato ok coppia perfetta 18 che ridere 18 contro l'8 che risate ora ci avrà l'asso e ce lo infiderai in culo ti prego bravo però è una bella manualità comunque non gli si può togliere nulla è una bella manualità si vede che è un grande professionista mi devi dare una bella side zio porco mi devi dare un bel tris adesso un bel tris ma un tris perfetto minchia sapete che non lo piglio veramente da tanto raga l'ultimo tris perfetto è quello che presi tipo tris perfetto di 8 di quadri e risalì tipo di un sacco minchia che schifo che schifo che cazzo fa guarda è stunnatissimo cazzo è stunnatissimo cazzo 14 dai sballa che bastardo che bastardo sono un po' nel pozzo signori miei ho citato qualcosa adesso e sogniamo o buonanotte a totos 2 bj di fila per prose assurdo eh ci sta bro gli gira bene il tavolo grazie 2 mene per i 3 mesi ben tornato cucciolo copia perfetto e colore ma no ma che schifo ma che schifo bro ma il 16 contro il 7 sei imbarazzante cazzo il 16 contro il 7 sei porco dio imbarazzante dai devi sballare quello raddoppia col 10 tutto passo mi piace mi piace si prende un 10 no che fa ma che cazzo fai preferivo quello di prima porco dio silenzio 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 ragazzi un 6 non posso neanche raddoppiare bello però va bene va bene una piccola scaletta cazzolina insomma vediamo 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 dammi quello che vuoi un 2 un 3 un 10 va bene lo accetto che grande Sampdoria raddoppia di nuovo e stavolta si piglia un bel 21 se lo merita cazzo se lo merita prima gli ha scammato quel 20 lì raddoppiato se lo merita cazzo vabbè pros minchia un altro bj qualcosa di incredibile di okane pros se la vinco la ripeto raga se la vinco la ripeto aiuto no che cazzo fa la cucciola aiuto bruno no ma che cazzo fai dai dai ma non è possibile il crazy me lo fa giocare porca madonna si o no me lo fai giocare sto crazy time di merda o no eh peccato ragazzi peccato col 19 poi durissimo cazzo neanche a dire col 20 o col 20 o col 19 con quel 5 lì maledetto cosa cazzo è successo al crazy time si è rotto ma sta ruota si rompe sempre zio porco come è possibile cos'è che si è rotto raga ma che cazzo è successo ma che cazzo ma porco dio ma noi dobbiamo buttare i nostri soldi giornalmente in questa merda porco dio neanche fa